bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono student lei è la fami la nostra fami ragazzi e oggi video mini video super speciale perché è appena stato rilasciato no urlalo urlalo un codice ragazzi appena stato rilasciato l'ultimo codice di what the hen ragazzi carte gratis oro gratis non vedo l'ora di provarlo perché neanche io l'ho ancora provato quindi è proprio fresco fresco come la mozzarella bella fresca bella come le uova di giornata quindi ragazzi non la gallina che fa la gallina giustamente per essere in tema quindi ragazzi non andiamo a dilungarci ulteriormente peggio delle autostrade vi ricordo di andare a cliccare in alto a sinistra sul vostro livello e brava numerino in modo che vi apre la schermata del profilo andiamo su invita amici il bottone che voi vedete c'è no perché invita amici andiamo su codice promozionale ragazzi e andiamo a mettere il codice amore mio che è le grandi giocate le grandi giocate ragazzi le grandi giocate diamogli un ok il codice lo state vedendo eccolo qua ragazzi le grandi giocate prima di andare a cliccarlo voglio ricordarvi stadam cos'è che li ricordiamo di lasciare un bel like ragazzi se vi piace non è una live è un video un bel like se vi sta piacendo questo video mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale se volete rimanere aggiornati su what the hand su tutti i codici in anteprima e su clash royal quindi andiamo a cliccare in via codice eccolo eccolo mi sposto ragazzi tre carte epiche per voi purtroppo non sono buone per me e 500 gold questo si chiama se non ricordo male questo è se non ricordo male florichiappa non lo so comunque le grandi giocate ragazzi il codice nuovissimo tre epiche e 500 gemme da ragazzi direi che per questo super mega speciale è davvero tutto io vi ringrazio tantissimo tu gli ringrazio tantissimo tantissimo e noi ci vediamo alla prossima live o al prossimo video ciao